Dove vanno? Tutti via adesso? Tutti via? Ah è arrivato il capo è arrivato, è arrivato il capo li sta mettendo in ordine Dove vanno? Dove vanno? Ah lavare le mani? Ah si prega così Oh God bless this food before we take it to Jesus Christ our Lord Ami il cappacchioni, amici il cappacchioni Comunque guarda che in Italia tanti pregano prima di mangiare Ma che noi pregavamo? Che cosa? Signore benedici la nostra? E' uguale a quello che ha detto loro Pane così, ah si si E darci la... Tu sei vecchia? Pili, Pili Ma qua vecchia che sei una bambina Pili, quel film? Video, video Il nuovo foto, video Video, video Basta, basta, basta Eh si basta, si Questo qui ce la faccio Ti sei in uguale? Ma c'è la mia per la mamma eh? Allora C'è la prima con la stupe Ma bene Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai vero? Oh, cognato, trovato? Sì Ma dai